È una rappresentanza dei giovani, è una rappresentanza delle donne al Parlamento europeo, quindi già il primo obiettivo l'abbiamo raggiunto con questa elezione. Ringrazio naturalmente tutti coloro che hanno avuto fiducia in me e che avranno anche fiducia in me, anche perché oggi abbiamo stabilito le commissioni. Io mi occuperò di IMCO, che possiamo riferirlo naturalmente al mercato interno e protezione dei consumatori e come commissione quindi abbinata anche la seconda commissione, possiamo così definirla, EITRE, che è Industria, Ricerca ed Energia. Sono entrambi legati a un ambito economico, quindi molto uniti e in linea con il background, in quanto mi sono laureata in economia, quindi ho proseguito sempre questi studi con passione e a maggior ragione l'IMCO mi permetterà di avere una tutela e di anche tutelare naturalmente il territorio italiano con il concetto di Made in Italy. L'industria mi permetterà quindi assieme naturalmente agli italiani di proteggere e di sviluppare sempre al meglio le piccole e medie imprese. Questi sono i due obiettivi che ad oggi ci prefissiamo, ma nel corso naturalmente della legislatura saremo in grado naturalmente attraverso un confronto di poter migliorare il nostro operato tutti insieme. Con un team si raggiungono veramente degli ottimi risultati.